Salve, il mio nome è Stupara Daniele, sono un libro professionista ternano, fondatore della EcoWorking Terni, della Terni Digital School. Il 27, il 28 e il 29 settembre stiamo organizzando la Terni Digital Week, sarà un evento interessantissimo in cui parleremo di molte cose interessanti, da cui il digital marketing immobiliare, digital marketing in ambito sanitario, digital marketing in ambito politico, parleremo di cyber sicurezza, parleremo di criptomonede e tanto altro ancora. Pertanto il mese d'agosto sta terminando, le vacanze sono ormai agli sgoccioli, prendete nota, iniziamo a programmare il futuro e vi aspettiamo il 27, il 28 e il 29 settembre, mi raccomando non mancare.